Una famiglia intera è finita in manette con l'accusa di tentata estorsione, per uno di loro anche di incendio doloso. A finire in carcere Fabrizio Sabato di 54 anni insieme al figlio Luigi di 29 anni, mentre la moglie Rosaria Scialpi e l'altra figlia Maria Rosaria sono state poste agli arresti domiciliari. L'ordinanza di misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta del pubblico ministero ed eseguita dagli agenti del commissariato di Gallipoli. L'inchiesta che ha portato a questi arresti è partita lo scorso 26 luglio durante un'operazione interforse al mercato ittico di Gallipoli che ha visto il sequestro di 8 box per occupazioni abusive e violazioni penali, amministrative e sanitarie. L'indagine ha rilevato un inquietante scenario di intimidazioni e minacce e danni di tre cittadini locali, ai quali la famiglia Sabato avrebbe ripetutamente richiesto 100.000 euro e la cessione di un locale commerciale. Le pressioni esercitate sarebbero state tali da coinvolgere anche i minori con minacce che hanno subito un escalation culminando nell'incendio di un furgone avvenuto in pieno centro cittadino il 28 luglio scorso, due giorni dopo il blitz e il sequestro di box. Il furgone di proprietà del commerciante di ortofrutta Francesco Boelis, marito della consigliera comunale Serena Pepe, è stato dato alle fiamme in via Torino, proprio davanti alla sua attività. Secondo le indagini dei poliziotti del commissariato di Gallipoli, diretti dal vicequestore Monica Sammati, ad innescare le fiamme sarebbe stato Fabrizio Sabato. Lo stesso sarebbe stato immortalato dalle telecamere di una stazione di servizio mentre riempiva due tanniche in plastica di benzina. Un primo tentativo sarebbe andato a vuoto mentre il secondo ha distrutto il furgone. Un dettaglio curioso riguarda l'arresto del 54enne avvenuto in mare mentre si trovava a bordo di un peschiereccio nelle acque di Santa Maria di Leuca. L'operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Guardia di Finanza che ha messo a disposizione un mezzo navale per consentire l'intervento della polizia. Le indagini hanno inoltre evidenziato il ruolo attivo delle donne della famiglia, Rosaria Scialpio e Maria Rosaria Sabato, che avrebbero incitato i due uomini a mantenere un atteggiamento minaccioso nei confronti delle vittime, arrivando a pronunciare se stesse frasi intimidatorie. All'operazione di polizia è stato dato il nome di Mercato Libero per un dublice motivo. Libero perché fino a qualche settimana fa nell'area mercatale vi era la percezione di essere slegati da ogni tipo di regola e perché dopo le recenti attività di polizia e dopo l'esecuzione degli arresti è stato ripristinato quel livello di legalità e percezione della sicurezza fondamentale per un ordinario vivere civile.